Si trova attualmente detenuto per altri reati. Francesco Mangano, 34enne messinese, nei cui confronti, nella mattinata di sabato scorso, i poliziotti e la squadra mobile, insieme agli agenti di polizia penitenziaria, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina per il reato di tentato omicidio aggravato in danno di un messinese di 31 anni. In particolare, lo scorso aprile, il Mangano, a seguito di una lite per futili motivi, aveva colpito più volte con una bottiglia rotta al volto e alla spalla un uomo con cui si stava intrattenendo all'interno di un bar della zona sud di Messina. Nella circostanza, la vittima, per le ferite riportate, era stata sottoposta di intervento chirurgico d'ugenza, a seguito del quale veniva dimessa con una prognose di 20 giorni. L'attività di indagine immediatamente avviata, la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza posto nelle immediate vicinanze del locale, nonché le testimonianze rese dai presenti sul luogo del fatto, hanno permesso di accertare la responsabilità dell'aggressore e fare piena luce sui fatti. Sabato, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.